Tullio De Laurentiis è stato nominato Cavaliere del Lavoro. Che cosa ne pensi? Il giocatore potente lo deve comprare, è importante, lo deve comprare adesso e subito. Deve fare una squadra di grande qualità. Ci deve far vedere veramente chi è De Laurentiis, uno che ci racconta chiacchiere o fa fatti. Napoli ha bisogno di una squadra abituata ad avere un grande calcio. Non ci possiamo più accontentare di queste piccole cose, settimo, ottavo, per fare l'interconto. L'interconto è una cattiveria per il Napoli. Non è possibile, se lui non fa, organizzare perlomeno una squadra per la Coppa UEFA, ma deve essere il quinto, il sesto, non pigliare le briciole del campionato. Perché già il campionato italiano è scadente. Oltre quelle quattro squadre non c'è niente. Niente, niente. E poi me lo lasci dire, confermare Reia è veramente una cosa che non si vuole progredire in niente.